Oggi con Carlo Motta, qui a Firenze, nel centro storico, in pieno centro storico, abbiamo presentato La Resistenza, il nuovo volume della collana Le Scelte di Puntelli, il volume di Critica d'Arte, pubblicato dall'editoriale Giorgio Mondadori, della mia collana, La Resistenza a un concetto davvero diverso rispetto agli altri, che andrà nelle librerie italiane, che andrà nelle fiere d'arte contemporanea. E io ho scelto di commentare all'interno un'opera di Blair Tachsomo. Qui vedete una delle sue opere straordinarie, ho avuto la grande fortuna di andare nello studio del maestro a Tirana e di vedere davvero il meglio e il laboratorio delle sue idee. Lei, attraverso una tecnica pittorica incredibile, eccellente, con l'attenzione del dettaglio, del disegno, con la tecnica che cambia, ci porta i contenuti dell'individualità che incontrano la storia. Lei lo è testimone, lo è stato a Mediterraneo, al Pasquino Crupi, con un'opera molto grande. Lo è in questo momento, al Museo del Correggio, a Palazzo dei Principi, lo è in questo contesto. La resistenza di Blair Tachsomo è la resistenza della pittura vera, la resistenza della visione d'arte, la resistenza dell'interprete dell'arte, fino davvero alla ricerca più attenta nei minimi particolari, a partire del gesto. È la resistenza della pittura originale, non banale, di ricerca, rispetto a tante copie che vediamo in giro. Le sue opere andranno nella terza mostra, che è una mostra istituzionale, di cui presto vi dirò la location, e saranno a fine febbraio al centro Leonardo da Vinci e nei Vigli, a Milano. Grazie, Blerda. Grazie mille, professore. Grazie. Grazie.